Roma, Nainggolan e la nazionale un tormentone senza fine. Il centrocampista è stato escluso dalle convocazioni per la seconda volta consecutiva e il caso in Belgio fa molto discutere. Il CT Martinez deve tenere il punto, ma la presenza del romanista al Mondiale non è in discussione. Il CT lo chiamerà a marzo per prepararlo alla manifestazione in Russia. Ma intanto i tifosi belgi si schierano dalla parte di Raja Nainggolan, escluso per la seconda volta consecutiva dai convocati del Belgio. Nel ritiro di Tubise il grande assente è il centrocampista della Roma, al quale non è mancata la solidarietà dei sostenitori, che hanno esposto uno striscione in suo favore. Anche i compagni sono con lui. Sentite Torgan Hazard? Tutti conoscono le qualità di Raja. Sta facendo bene con la Roma, meriterebbe un posto in nazionale, e già in passato, ha dimostrato di poter giocare in questa squadra. È un peccato che non ci sia. Alex Vistel ha detto. Raja è un buon giocatore, importante per la squadra. Tuttavia, non sta ai giocatori decidere chi sarà chiamato e chi no.